buongiorno a tutti e benvenuti alla prima partita tra no tra si ma che cazzo stai dicendo guarda questi qua che stanno sotto che stanno parlando cosa gli dici cazzo e mamma cosa stai dicendo e mamma sto dicendo guarda chi sono quelle teste da cazzo lì e mamma io vengo qua mi faccio pagare 3 milioni d'euro per questa partita ci sono le teste da cazzo sotto che mi commentano e mamma santo non è scusate per i problemi tecnici come potete come avete visto nel menucino io sono edile plastico al commento insieme all'incredibile ronaldino direttamente dal messico e mamma non so neanche quando incomincio a giocare che cazzo che sono qua che mi hanno chiamato questi qua canne dell'uva passa per fare la partita e ma chi sono quelle teste da cazzo qualche sotto che parlano cazzo bene questa è la formazione del borussia dortmund che andrà a sfidare il manchester city in attacco nuovo acquisto ciro immobile blaszczykowski non si sa come è ritornato dall'infortunio e gioca titolare e questo qua invece è il manchester city come potete vedere capitano company puttana miseria la regia che mi taglia subito in porta c'è joe art che è nazionale inglese e mamma questa speriamo che sia una bella partita cazzo è perché è cazzo ho scommettito tanti di quei soldi su borussia dortmund eh ma non si può scommettere come non si può scommettere e con c'è se sei un calciatore non boh ma ma allora non dirò nessuno è questo non è ma questo va va come dire è tutto registrato come mamma tutto registrato ed ecco qua che incomincia la partita tra borussia dortmund e il manchester city i si subito in campamento di palloni che quasi quasi lo perdono avanza borussia dortmund con nurisaino che anche lui è schiesso non potrebbe giocare è un chitariano la passa per ciro immobile che 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 la sba che la che la sbaglia la sbaglia incredibilmente la palla per un centrocampista di zeko che va subito borussia dortmund riprende la palla e c'è quasi il tiro vendere il tiro e c'è subito l'intervento di giovato e mamma che parada della madonna che ha fatto quello lì e subito color off che prende la palla in possesso non sa cosa fare la buttera via la buttera via la buttera via no e e dico ormando coloro perde la palla subito fernandinho fernandinho cosa fa e la passa agli aiature a mamma che ho giocato io con gli aiature sicuro e mamma se non lo so minga io che ho giocato con barcelona mi si è giocato con barcelona e allora che ho giocato poco gli aiature tanto rimessa laterale per il manchester city tanto vediamo che non ci sono raccata palle quindi zabaletta si deve andare a prendere la palla da solo e mette subito in campo per nasri 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 pericolo in difesa da borussia dortmund spazza via subito per ciro immobile che non è mamma ha sbagliato subito posizione a quello lì non si può guarda avanza de michelis che diego armando di michelis parte è lui diego armando li supera tutti a mamma arbitro questo come lo fischi falo a mamma loro tra taggete popo gli occhi nel culo taggete guarda e guardalo lì ci giocavo io insieme a barcelona e vabbè se lo dici te io ho qualche dubbio però tanto vediamo che la la barriera avanza furbescamente c'è il tiro no è un passaggio per kolarov ed è calcio d'angolo e mamma che che schema da merda che gli ha tirato giù questi qua mamma se c'ero io guarda la piacciavo l'incrocio guarda mamma eri troppo forte come ero troppo forte cazzo sono ancora di a giocare calcio a mamma otto sei tu un cazzo niente spazza via la difesa vlasikowski che ricordiamo un'altra volta è infortunato ma gioca sta bene non rompete le palle rois per ciro immobile sulla fascia sbagliatissimo diego armando kolarov ancora lui diego armando vuole andare a fare gol e lui e parte parte lui e no e viene falciato da immobile si immobile c'è la rimessa laterale parla per nasri e lui che parte cosa fa quel difensore la la miseria ancora un calcio d'angolo speriamo che quella partita qua casso finisca a 7 8 0 e perché 7 8 0 e mamma perché ho puntato sul 7 8 0 del risultato giusto casso a c'è il risultato giusto 7 8 0 e caso cosa vuoi puntare casso ho puntato 10 mila euro speriamo che si vinca qua intanto ciro immobile scusate è solo davanti la porta al tiro cosa ho sbagliato cosa sbagliato quel deficiente e scusate quel giocatore a mamma se c'ero io non lo sbagliamo mica guardalo e cosa ha fatto la regia qua che ha gattaiato il replay ah mamma roba da cia palla calci nel culo quello della regia casso intanto joart joart che ci mette 30 anni per rilanciare prende la palla agguero per nessuno subottic per sven bender no per pisce 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 bender il gemello quello forte perché l'atto scarso gioca in una squadra cia la cicoschi invenzione e invece no palla per davis silva era fuori invece no e ora è fuori e mamma se fa qui quella telecamera almeno lì mamma e mi sembra che gallimano cosa le porta ma se ne intendi ai video gioca e mamma ronaldino se ne intende da tutto prende la palla nasli che la perde immediatamente per la corrente royce cosa fa royce si 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 imbeve tutto la mette in mezzo per nessuno e ricomincia al manchester city ruba la palla ciro immobile il tiro joart tranquillissimamente proprio la tranquillità invia subito per zabaletta quello là come mai è caduto sarà ciucco casso palla per silva che scarta subito uno ne scarta un altro diego armando silva no hummes il difensore più forte al mondo per sven bender il gemello più forte al mondo anziché lo siano fratelli kolarov agguero agguero li imbriaga tutti quando adesso la fa insomma lo ferma un infortunato nurisain che parte subito è tutto solo è tutto solo nurisain cosa fa e la mette in mezzo però sbaglia a mamma però era buona l'idea dai casso non stiamo qua a dire e a mamma le minga raggiunga rugby perché l'ha buttato fuori così casso mica che adesso ricomincia lui con la rimessa la terra e mamma santa si parla per blaszikowski blaszikowski la me la stava per me la la stava per mettermi ci rimuove qua due tiri e un importo e mamma santa qua cazzo d'angolo aggaffato tri cosa casso vorrebbe dire calcio d'angolo colpo di testo e c'è un incredibile palo a mamma aggaffato al ferro quello è scusato aggaffato al palo a mamma l'ha toccata portiera e non l'ha toccata no casso giuart la passa per coloro e finisce qui il primo tempo primo tempo non avaro diciamo di emozioncine non c'è stato gol è casso non c'è stato gol qua casso come faccio a tirare avanti io alla fine del mese qua vediamo un bel il primissimo subito tiro di bender con numero 6 paratona di joart comunque si sta dimostrando un buon portiere qua un emkitarian a macellaio su nasri se non mi sbaglio e ci vediamo per il secondo tempo eccoci qua subito per il secondo tempo parte subito guarda di ariature parte subito scusa donaldinho perde la palla e lui la mette in mezzo immobile niente colpo di testa e ricominza joart spazza lungo per il borussia dortmund ricominza rois rois alla palla per cirono immobile cirono immobile cosa fa passa bender 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 uscita di art che salva tutto immobile la palla per touré su botti che non si sa cosa stia facendo lì la mette in mezzo sbaglia incredibilmente ha sbagliato tutto quello lì questo art qua sta per andare sta no la passa company da company a nessuno perché parte lui e diego no sbaglia ciro immobile davanti la porta non è vero immobile cosa fa la passa rois che sbaglia incredibilmente è un scarso lotto quello lì mamma anzi più che altro quello che sta giocando con lui è la palla per bender per smelzer che mi sa che è infortunato anche lui non la passa sa in ma a yaya touré il cieco prende la palla non si sa perché ha centro campo e passa sulla fascia per nasri nasri la miseria diego armando no non è vero la recupera non è vero non è vero la recupera non è vero la recupera non è vero la recupera un mes diego armando un mes parte è davanti al portiere il tiro è gattirato una mozzarella è rimessa laterale è proprio uno scarso lotto quello lì che gioca con eh cioè il difensore intanto c'è il primo cambio e entra Jovetic ed esce il secco eh devono buttare dentro dei gol qua sennò perdo le scommesse parla per Sain gli era l'Uba no ancora Sain Sain il tiro quasi all'incrocio e non c'è neanche la parata dunque anche se non ci sono gol partita emozionante se magari si sviluppasse il portiere c'è il passaggio laterale per Zabaleta Zabaleta rischia tantissimo qua in difesa Diego Armando Zabaleta è lui che parte sta andando in porta perde la palla Reis è ancora una grande parata di da quel figlio di una puttana del portiere prende la palla Nasri che non si sa perché sia a centro campo è lui che parte Diego Armando Nasri è lui scivolata sbagliata Nasri è davanti al portiere non è vero la madonna cosa fa quello lì eh c'è l'errore si riparte da calcio d'angolo con una incredibile parata di Weidenfeller palloni che cadono in campo se ne so e c'è un cambio anche per il Borussia Dortmund entra Aubameyang per Subotic e Kjell per Sahin Kjell si sbeffizza e fa una cagata e riparte Sven Bender e anche Sokratis per Blasikowski tre cambi per il Borussia Dortmund eh ma ma meno questa l'ho azzeccata cosa hai azzeccato? la scommessa dei tre cambi l'ho scommettito su quelli almeno 100.000 euro che ho vincito guarda va bene contento te poi la guardia di finanza ti viene a caso sono cazzi tuoi e c'è un altro cambio invece per il Manchester City entra Bakarishagna per scusate Alexander Kolarov Aubameyang appena entrato è lui tiro di merda sponsorizzato da Mozzarella di Bufala le peggio mozzarella riparte sbagliato l'approccio del Manchester City la palla per un altro errore di Ciro Immobile non è entrato bene in partita il più forte gemello fratello del mondo Sven Bender per Marco Reus perché l'ha appena entrato Ciro Immobile ancora lui potrebbe potrebbe Ciro Immobile però è molto buona la difesa del Manchester City eh mamma sono dei cancheri quelle lì in difesa cazzo non si può minga fare così però a me non mancano quanto minuti cazzo non mancano un paio da minuti fa io buttare dentro almeno un 7-8 gol cazzo così almeno Zabaleta trova la palla Mkhitaryan spazio immediatamente il Manchester City prende Smelzer tre minuti recupero palla centro campo Ciro Immobile una una discreta partita per Ciro Immobile che la mette per Marco Reus Zohart di puro sedere e finisce qui la partita e se si dovrà vedere bene cosa succederà tanto resista fa partire replay a caso dunque molto belli sintomi allora Ronaldinho come ti è sembrata la partita una delusione a caso scommettito 10.000 euro una tonnellata di ferro per la partita 7-8-0 del Borussia Dortmund però a caso non si pominga non si pominga intanto vediamo qua un paio di replay un paio di falsiate assassine della morte qua invece rimane in piedi incredibilmente e qua eh mamma qua se c'ero io la buttavo guarda non te lo dico e qua mamma e qua ha gacciapato il ferro scusate ha gacciapato il palo qua invece eh mamma che sbagliata che ha fatto anche qua Mattei peggio delle mossarelle cazzo è stato bravo il portiere quanto è bella l'erba il portiere davvero è qua il miga tiro ancestrale quasi all'incrocio di un infortunato Nurishain e vedremo cosa ci riserverà al futuro adesso e mamma se parto subito con il rigore cazzo il primo tentativo è quello del Marco Reus Cristobal vediamo cosa fa se si brogna questo a tirare magari abbiamo capito come si fa a tirare il portaparte Marco Reus e mamma santa c'è il gol del Marco Reus c'è il gol ecco qua Sergio Aguero il portiere tenta di imbambolarlo parte Aguero centralissimo qua c'è il Ciro immobile almeno deve fare gol questo è la sassata che blocca il portiere quello schifoso qua c'è Jovetic non mi ricordo come faccia di nome parte Jovetic e c'è il grande botta quasi sotto set e mamma qua c'è il PRM di Cabo e Young è il mio amico questo e parte il tiro mamma santa che cagata che ha fatto quello lì è proprio un deficiente quello che gioca con quello lì Gliagliature e quello lì ci giocavo io insieme a Gliagliature parte la finta irregolare e c'è l'errore anche di Gliagliature incredibile e c'è Lumers qua cazzo è troppo forte Lumers parte il tiro e ci mancava anche che lo sbagliava quello lì cazzo Nasri Nasri per tentare tre pari Nasri Nasri spiazzatissimo il portiere ma mamma qua c'è quello lì come se c'è ma non sono neanche capace a dirlo e c'è la parata mamma mia quanto l'è scarso quello lì che le dovrà giugare mamma Silva lo inciucca il portiere Silva verrà inciuccato bruttissimo uno dei più brutti cucchià incredibili e mamma che se fa il chi e sbagliò la porta a Ker mamma mia Zabaleta il tiro decisivo l'ultimo tiro Zabaleta e c'è il palo incredibile e c'è la vittoria ai calci di rigori del Borussia Dortmund anche se non ci sono stati gol comunque non è stata avara di emozioni questa partita spero vi sia piaciuta anche a voi questa partita da Edile Plastico Ronaldinho ci vediamo alla prossima altri replay a cavolo della regia che non sa cosa fare replay sul centro campo replay sulla parata mamma dice che me li contano i calci di rigore eh mamma mi sa di no falciata macellaia di Enchita Ariano e niente ragazzi se ci saranno un'altra falciatona anche se stava tirando se ci saranno altre partite il 17 sicuramente succederà qualcosa poi ci saranno altre partite eh mamma si è galcanato qua uno scarso lotto e ci vediamo alla prossima ciao bravo ciao ciao Grazie a tutti.